Un secondo quarto da 1 su 15 dal campo ha condannato la Scandone alla sconfitta sul campo del Paladolza, punteggio finale 88-66 per la Virtus. Il gap è stato creato, ma il team di Vucinic non ha avuto la capacità di ridurlo, colpevole della sconfitta, anche il tecnico, forse incapace di gestire tanti giocatori o che semplicemente deve ridistribuire le gerarchie con il nuovo organico. Di fatto il quintetto del secondo periodo di gioco con Harper, Derkole, Silins, Campani e Ndiaye ha preso un parziale di 15-0. Non poteva essere diversamente perché in attacco mancava di fatto un giocatore capace di fare canistro e gestire il pallone. Da quel momento è stata una partita totalmente differente e completamente a senso unico. Avellino è stata sorretta dal solito Gieffer Sykes, 25 punti, che ha provato a togliere le castagne dal fuoco ad un attacco sterile ed impacciato e per lunghi tratti inguardabile e privo di idee lasciato dall'iniziativa di un singolo individuo. Sulla sconfitta degli Irpini pesano probabilmente delle scelte rivedibili di coach Vucinic, ma ci sono anche i meriti dell'avversario che ha tirato con il 60% da 3 punti. Tanti tiri presi in completa libertà. Per omissione difensiva di Biancoverdi, su tutti Caleb Green, che a 35 anni suonati, fa ancora aiuto lato palla, mandando gli avversari a canistro. Ora bisogna cancellare questa partita e pensare alla gara di Coppa per evitare un fallimento. Questa mattina gli Irpini sono partiti per la Lettonia. La vittoria è l'unico modo per ritrovare fiducia e rimettersi in corsa anche il campionato. Di questo passo Firenze rischia di diventare una gita di piacere.